Siamo qui con Marco Lai, l'allenatore del Lupa Amatori, che oggi esce vittorioso, però non con qualche sofferenza. Diciamo che il Real Miami ha creato un po' di più, però voi siete riusciti a concludere meglio. Sì, diciamo che abbiamo sofferto troppo. Non è stata, tecnicamente parlando, una bellissima partita. Abbiamo fatto molti errori tecnici, ci siamo complicati anche la vita in alcune giocate. Non abbiamo mai cambiato gioco, comunque troppo raramente. Poi abbiamo creato tre occasioni, forse quattro, ma due abbastanza sporche, non pulitissime. Siamo contentissimi per i tre punti, che prendiamo ovviamente molto volentieri, però dobbiamo migliorare molto perché in altre gare abbiamo giocato molto meglio rispetto ad oggi. E quindi bisogna fare di più. Non giochi mai da solo 11 contro 0, quindi è sempre merito agli avversari se fai fatica. Loro sono stati molto bravi, alcuni frangenti anche più di noi, però ci prendiamo i tre punti, siamo molto contenti perché insomma aggiungiamo qualche cosina alla classifica. Dai, perfetto. Allora, complimenti per questa vittoria, ci vediamo alla prossima. Grazie mille, alla prossima. Buona serata. Ciao. Ciao.